Mal tempo, Mazzeo a Campi Bisenzio, situazione ancora drammatica, ma ce la faremo il presidente del Consiglio regionale in visita nei luoghi tra i più colpiti dall'alluvione del 2 novembre. Consiglio regionale, l'Aula ha approvato ad unanimità una serie di atti di maggioranza e opposizione per mettere in campo azioni immediate a sostegno delle popolazioni colpite. Alluvione in Toscana, il presidente della regione è Gianni, nominato commissario delegato per l'emergenza. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, si è recato giovedì 9 novembre a Campi Bisenzio per verificare l'evolversi della situazione dopo gli eventi della scorsa settimana e per incontrare la popolazione tra le più colpite da questa terribile alluvione. Ho portato la mia vicinanza, la nostra solidarietà al sindaco, dichiara il presidente dell'Assemblea legislativa. Ho salutato le centinaia di ragazze e ragazzi arrivati qui da tutta la Toscana. Sono andato a visitare e incontrare alcune realtà produttive, gravemente danneggiate, che purtroppo rischiano di perdere tutto. Sentiamo le parole del presidente Antonio Mazzeo. Permettetemi però oggi, in una giornata come questa, di esprimere a nome mio, di tutto il Consiglio regionale, il cordoglio, la vicinanza alla famiglia delle sette vittime, un messaggio di affetto e di vicinanza anche alla famiglia dell'ultimo disperso e la solidarietà verso tutte quelle popolazioni che in queste ore, mentre noi oggi siamo qui a svolgere un'assemblea legislativa, che partirà proprio con una discussione sull'emergenza alluvionale, sono a spalare il fango ancora nelle case, nelle aziende, alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che hanno preso una pala, hanno messo gli stivali e sono lì in prima linea. Questo è il cuore grande della Toscana e un ringraziamento anche ai sindaci per il lavoro fondamentale che portano avanti per le nostre comunità. Sono giorni terribili per la nostra regione, ma io sono certo che con l'impegno di tutti e dando risposte concrete, non è oggi il tempo della polemica, l'ho detto a tutti i capigruppo, io mi auguro che in aula non ci siano polemiche, scambi di accuse incrociate, ma solo proposte per dare risposte credibili alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Io sono convinto che se faremo questo, tutti insieme ci rialzeremo più forti di prima. E adesso il commento da parte del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Io devo dire che ancora l'emergenza non è finita. L'emergenza la viviamo a Montale, dove Lagna fino a stamani rilasciava all'esterno la propria acqua e che grazie all'intervento molto forte del genio civile che abbiamo disposto, ha visto stasera riassettare gli argini. La vediamo a San Piero a Ponti, nel comune di Campi, dove ancora sono difficilmente raggiungibili alcuni punti. La vediamo a Campi, dove indubbiamente ci sono tante zone, nelle quali ancora deve essere tolta dagli scantinati, dai sendi interrati, l'acqua, le chiamme. Lo vediamo nelle tante aziende che stanno facendo un lavoro durissimo di risistemazione, ripulitura, ricerca di ripartenza, spesso con le lacrime agli occhi. Ecco che ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state, nella concentrazione delle 6-7 ore, nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel pango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle del smaltimento dei riquami e degli spurghi, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere e nella nostra forza. Tantissimi consiglieri regionali che sono intervenuti sul tema alluvione. Sentiamo le loro parole. Fin dalle ultime ore del pomeriggio di giovedì si è capita la gravità della situazione. Poi ci sono state una serie di rotture arginali su cui dovrà essere fatta chiarezza che hanno interessato in modo particolare montale la zona industriale, tutta la zona di stazione dove mi sono recato personalmente a vedere e anche a partecipare al COC insieme al prefetto, al sindaco e alla protezione civile nazionale e anche Quarrata o la rottura dell'Argine e dello Stella che ha provocato l'allagamento di buona parte della città e del centro. Anche in questo caso sono stato nelle immediate ore del venerdì mattina a trovare il sindaco mettendomi a disposizione per quanto si potesse fare in quelle ore concitate per i contatti, per cercare di contribuire naturalmente a mandare i volontari della protezione civile laddove c'era più bisogno. L'evento che ha colpito il litorale pisano in questi ultimi giorni è un evento eccezionale? Assolutamente sì, ma è altrettanto vero che quell'evento pur eccezionale non ha colpito nello stesso modo e con le stesse conseguenze tutto l'operato di Maria di Pisa. La parte a nord, quella verso Bocca d'Arno, è stata stravolta, sconvolta, con attività distrutte, con abitazioni distrutte, scendendo più verso sud, verso di Borno, sempre dentro l'abitato di Maria di Pisa, quell'evento ha portato soltanto un po' d'acqua sulla strada. Eppure era lo stesso evento, con la stessa intensità, con lo stesso mare. Perché? Perché in alcune parti di fronte all'abitato di Pisa sono state completate le opere di contenimento del mare, in altre no. Quindi bisogna completare le opere di contenimento del mare. Il tema degli investimenti è un tema che deve essere al centro, ormai in modo non più rinviabile dell'agenda politica. Noi veniamo da decenni in cui le opere pubbliche, soprattutto sul tema del rischio idrogeologico, vanno a rilento. Pensiamo alle case di espansione, opere progettate vent'anni fa, che ancora stanno vedendo la luce in modo graduale. Se davvero noi teniamo la salvaguarda del territorio, riteniamo che il territorio che consegneremo alle nostre generazioni future debba essere in qualche modo salvaguardato, debba essere concepito in un modo di sviluppo razionale, che coniughi anche naturalmente lo sviluppo urbanistico, con la sostenibilità, ecco oggi il tema degli investimenti è davvero centrale. Vengono confermate tutte le ipotesi più drammatiche che scienziati ed esperti da decenni ci suggeriscono per cercare di cambiare l'approccio e il trend anche alle leggi che noi produciamo. È fondamentalmente che gli eventi sono sempre più estremi, sempre meno controllabili. La prevenzione diventa fondamentale, ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi. E da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento, che negli anni si è visto della legge 65 del 2014, la famosa legge marzo, non depone a favore di questa regione. È importante evidenziare che esistono due normative. La normativa regionale, che è regolata dalla legge 45 2020, in particolar modo l'articolo 24, che prevede di avere risorse anche a bilancio regionale e noi abbiamo richiamato l'importanza di farlo anche attraverso la terza variazione che è in discussione proprio in questi giorni. E naturalmente la legge nazionale, il decreto legislativo numero 1 del 2018, che regola insomma il quadro degli interventi in una situazione di questo genere, che poi ha dato luogo allo stato di emergenza nazionale. Da questo punto di vista quindi, in attesa di capire cosa il Presidente Gianni ha richiesto a livello governativo, noi abbiamo chiesto copia degli atti ma ancora non li abbiamo visti e li vogliamo leggere. E quindi in attesa di capire se ci sarà, come pare, un allargamento anche a altre due province importanti, la provincia di Lucca, la mia, che ha avuto danni notevolissimi, in particolar modo sulla costa, le imprese balneari, le imprese commerciali, ma anche tante famiglie, ma anche la provincia di Massa Carrara, ulteriormente colpita, anche se non hanno avuto morti, come è purtroppo successo nel centro della Toscana. Bene, in attesa di capire se ci sarà un allargamento anche a questi territori dell'emergenza nazionale, ma il Presidente Gianni può intanto utilizzare la 45 del 2020 con lo stato di emergenza regionale e con i quattrini alla regione. Mentre abbiamo potuto appurare che durante le piogge così intense, che hanno dell'incredibile, occorso in questi giorni, che hanno portato tanta devastazione, i fiumi importanti, reticoli importanti, hanno tenuto bene il passaggio dell'onda di piena, raramente raggiunto addirittura al primo livello, il punto debole sono stati i reticoli inferiori. Riticoli inferiori nei quali dovevano essere realizzate già in tempi passati le casse di espansione, cosa che non è accaduto. La mancata manutenzione da parte, anche l'abbandono del fatto che non ci sono più le cure del territorio, come accadeva fino a qualche decennio fa, ha aggravato la situazione. Quindi ci sono solo due possibilità. O andare a rierigere le sponde, che avrebbe un costo infinito e tempi di realizzazione lunghissime, o realizzare casse di espansione che permettano il defluire delle acque e l'abbassare dei livelli, affinché fatti come sono accaduti, di una devastazione incredibile, nessuna immagine può rendere bene se non si va di persona a vedere quello che è accaduto veramente, non debbano più accadere. Avremmo desiderato avere dati maggiori su che cosa è stato fatto, quante famiglie sono state senza energia elettrica, come sono stati risolti i problemi, quando sono stati risolti, insomma dettagli maggiori su quello che è stato fatto. Non li abbiamo avuti, però riceviamo costantemente dai territori colpiti notizie che non sono rassicuranti. L'emergenza è ancora in atto, non più tardi di ieri sera alle 10, io ero al telefono col Vice Presidente del Consiglio Comunale di Campi che mi diceva che esiste un solo sito di stoccaggio per i rifiuti che vede lunghe file di camion in attesa di questo passo ci vorranno mesi per poter portare via quella montagna di rifiuti. Quindi la situazione a nostro avviso non è risolta, l'emergenza non è guidata e lo dimostra anche il fatto che molte cantine, molti seminterrati sono ancora allagati e sempre i nostri volontari consiglieri comunali di Firenze mi facevano presente che hanno liberato otto case dall'acqua ma portando loro le pompe perché quelle dei vigili del fuoco hanno un diametro troppo grosso che non riesce a portarvi all'acqua. Sì abbiamo chiesto come Italia Viva per primi che anche le province di Massacarrara, di Lucca e parte della provincia di Arezzo venissero coinvolte nella dichiarazione di stato di emergenza. Anche in queste province si sono verificati forti danni in particolar modo alle imprese, in alcuni casi anche all'abitazione dei privati e questo è un tema di grande rilevanza. Quindi abbiamo chiesto con degli atti, fa piacere che anche altre forze politiche hanno condiviso le nostre richieste per far capire tramite il governo Gianni al governo nazionale che anche queste province devono rientrare nel quadro delle emergenze. Intanto abbiamo ascoltato una ricostruzione, una testimonianza di chi è stato sul campo fin dalle prime battute, da quando l'emergenza è scattata sia il Presidente insieme all'assessore, alla protezione civile, ai volontari, alle forze dell'ordine è scattata veramente una macchina che non si è assolutamente risparmiata. Addirittura alla provincia di Arezzo, oltre a quella di Lucca e Massacarrara, dove al di là della specificità di questa perturbazione ci sono stati danni e danni ingenti a settori anche importanti, partendo da quelli degli stabilimenti balneari, come tutti sappiamo sono un fiore all'occhiello della ricezione, promozione e qualificazione ambientale del nostro territorio e anche turistico chiaramente. L'abbiamo fatto in un'aula semideserta, prima dell'arrivo del Governatore Gianni, dove abbiamo anche rimarcato come da anni sui fondali delle commissioni regionali ci siano delle PDL dell'opposizione, di Fratelli d'Italia in particolare, che avrebbero potuto aiutare anche qui la reazione, comunque anche l'opera di prevenzione, nel specifico riferimento al cittadino toscano e a come questo può reagire o interfacciarsi in stato di emergenza. Io stamattina sono stata a fare un giro a Campi e devo dire che è davvero impressionante vedere tutte quelle vite poi accatastate per le strade, persone che hanno perso tutto e credo che dovremmo fare i conti con questi danni ancora per molto. Il patrimonio culturale non è da meno, sto tenendo un contatto con tutti gli assessori alla cultura dei comuni alluvionati, ci sono archivi alluvionati a Montale, a Quarrata, a Montemurlo, a Campi, la biblioteca della Villa Montalvo di Campi è allagata e c'è stato un danno ingentissimo a tutto il patrimonio. Intanto voglio iniziare esprimendo il massimo cordoglio da parte del gruppo della Lega a tutte le vittime, a tutte le famiglie e la vicinanza a tutte le imprese e tutti quei cittadini che ancora in questo momento stanno spalando fango nelle tante città colpite della Toscana da questo alluvione. Il tempo del silenzio, abbiamo rispettato le vittime, abbiamo rispettato tutti i cittadini, abbiamo rispettato anche il lavoro del Presidente Gianni e dell'assessore Monni in questi giorni, andando sui territori in silenzio a cercare di dare una mano, di dare il nostro contributo, di far arrivare segnalazioni dove non arrivavano, di metterci in contatto personalmente anche con Enel piuttosto che con Acqua nel mio territorio dove c'erano problemi di luce o problemi di acqua o di altro genere. Però è arrivato anche il momento della responsabilità della politica, non si può continuare a dire che tutto dipende dalle calamità naturali, dal cambio climatico e dalle variazioni del clima. La provincia di Prato tutta è in ginocchio sia per molte famiglie ma ovviamente anche per il tessuto produttivo, quel tessuto produttivo che poi è la colonna portante di un sistema più ampio di tutta la piana fiorentina con aziende che sono in ginocchio. Ovviamente il mio primo ringraziamento va sia al Presidente Gianni che all'assessore Ramonni come a tutti i sindaci, a tutti i volontari che in queste ore a migliaia stanno dando una mano e al sistema di protezione civile. Questo ora è il momento dove fare bilanci o cercare responsabilità o colpe è complesso perché ancora abbiamo negli occhi le immagini di quelle persone, immagini di chi non ha più niente, di chi non ha più da piangere perché chi come me ed altri colleghi ha vissuto, voi sicuramente prima anche di noi, quelle immagini si rende conto che in questo momento bisogna stringersi intorno a quelle famiglie, a quegli imprenditori, a chi ha avuto dei grandi lutti, a chi ha avuto dei disagi e poi verrà il momento, penso presto, dopo insieme al Presidente Gianni e all'assessore Ramonni ringrazio entrambi, insieme a tutti i volontari della protezione civile in cui faremo il bilancio, faremo il bilancio, la conta dei danni e cercheremo di capire come poter intervenire. Quello che voglio dire è che noi abbiamo da tempo sollevato delle perplessità su questo modo di comportamento del governatore che non sempre peraltro ha la presenza dovuta in commissione per spiegarci determinati provvedimenti. Noi diciamo con chiarezza che le risorse che non hanno carattere strutturale previste e in questa variazione di bilancio dovrebbero essere invece destinate a cittadini e ad aziende colpite dall'alluvione. Non solo, come Vice Presidente del Consiglio regionale credo che si debba destinare quest'anno l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale proprio a chi è stato colpito dall'alluvione. Quindi sicuramente indagheremo su quello che è successo e che molto probabilmente non è stato fatto, ma soprattutto dobbiamo lavorare nelle istituzioni per cercare di essere concretamente utili a cittadini nei nostri ruoli istituzionali. In questo momento la Regione è ancora in ginocchio ci sono tanti nostri concittadini e tante nostre concittadine che stanno ancora combattendo con il fango, con i disastri patiti con la perdita di tutto quello che hanno costruito in una vita e non è il momento di fare né polemiche né accuse e noi abbiamo scelto la via del silenzio abbiamo scelto di fare ognuno del nostro piccolo quello che era le nostre possibilità senza post, senza foto, senza video, senza cappellini, senza felpe, senza giubbotti ma cercando semplicemente di prestare una mano ognuno per quelle che sono le proprie possibilità. La seduta di martedì 7 e mercoledì 8 novembre si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito vasti territori della Toscana Il presidente Antonio Mazzeo ha ricordato una ad una le persone che hanno perso la vita e ha esortato a impegnarsi per rendere il territorio più sicuro L'ordine dei lavori è stato modificato dalla conferenza dei capi gruppo e ha inserito la comunicazione del presidente della Regione Eugenio Gianni nominato commissario per l'emergenza per informare l'Assemblea legislativa sul quadro complesso delle azioni già in corso e degli eventi da programmare A seguito del dibattito l'Aula ha approvato all'unanimità una serie di atti di maggioranza e opposizione per mettere in campo azioni immediate a sostegno delle popolazioni colpite Sentiamo il commento da parte dei consiglieri regionali Elena Meini, Francesco Torselli, Marco Stella e Vincenzo Ceccarelli Abbiamo presentato degli atti generali per l'emergenza che stiamo attraversando abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca abbiamo approvato appunto un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale perché non dimentichiamo anche la calamità naturale che ha attraversato le varie province nel giorno del 31, del 30 e del 31 ottobre quindi un preallarme all'alluvione che abbiamo attraversato e da lì l'area costiera è stata colpita più volte appunto e che ha creato danni agli stabilimenti balneari le attività produttive ma anche a tantissime famiglie che ancora oggi si trovano senza luce, senza acqua e sono sfollate Io credo che il centrodestra in questi due giorni di discussione sull'alluvione abbia fatto un servizio ai cittadini e alle cittadine di tutta la Toscana ha fatto un servizio evidenziando in maniera seria e puntuale tutto quello che non ha funzionato non per fare polemica ma perché è giusto che la regione toscana, la politica tutta metta l'attenzione, focalizzi l'attenzione su quello che è andato storto perché se oggi fossimo qua a raccontare che è stato tutto bene, che è andato tutto bene che ha funzionato tutto e che... Abbiamo consapevolezza del momento insieme agli altri capogruppo ai gruppi consigliari in regione toscana abbiamo scelto una linea molto chiara che è stata quella naturalmente di criticare l'evento ma anche di essere propositivi il governo Meloni, il governo di centrodestra ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi è venuto il vicepremiere Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo per tutto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato e sono 300 milioni che il governo di centrodestra ha portato due giorni dopo in questa regione il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza 5 milioni ha messo il governo ma è soltanto un primo strep abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo Sono stati approvati alla fine di questo dibattito diversi atti in maniera unanime sia presentati dalla maggioranza che dall'opposizione alcuni sono stati rinviati in commissione perché hanno bisogno di approfondimenti e di un ragionamento maggiormente articolato tra gli atti approvati ovviamente la nostra risoluzione che oltre ad un ringraziamento al presidente Gianni ora commissario per quanto riguarda la situazione di crisi all'assessore Monni ma con loro a tutta la protezione civile e forze dell'ordine i vigili del fuoco tutti i volontari tra i quali questi straordinari giovani molti studenti che da subito si sono presentati e si stanno presentando per aiutare in quelle che sono le operazioni ora maggiormente necessarie per tornare alla normalità Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni è stato nominato commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi nei territori colpiti Massimo impegno ha detto Gianni per risollevarci tutti insieme famiglie, imprese e istituzioni L'ordinanza con la nomina di Gianni a commissario delegato è stata firmata dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio Sentiamo il commento di alcuni dei consiglieri regionali Sì, noi diciamo no, sinceramente credo che Gianni sia già commissario di troppe cose in Toscana In questi ultimi tre anni lo abbiamo visto già commissario ben tre volte Credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti Questo è un tema veramente delicato Ci vuole una persona estranea, una persona super parte Una persona che abbia una strategia, che abbia già messo in moto una macchina Perché no, è il generale Figliuolo Dopo le calamità naturali che da maggio scorso si sono verificate anche in altre regioni d'Italia O comunque è una persona che sia in grado di gestire le risorse, di gestire il territorio Senza interessi, permettetemi il termine, di popolarità e di voto e di politica in Toscana Quindi la persona più estranea sarà e avrà soltanto l'interesse di fare il bene dei cittadini Indistintamente senza un ritorno politico E più importante sarà questo per la Toscana, ripartire nel più breve tempo possibile Non siamo né contrari né favorevoli È una scelta che ha fatto il Governo Io immagino, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi Immagino, non faccio parte del Governo Ma immagino che la razio con cui il Governo ha fatto questa scelta Sia stata nell'immediato, poi dopo nella fase di ricostruzione Vediamo se sarà ancora Gianni, se sarà individuato un'altra persona, non lo so Ma nella fase dell'immediatezza degli interventi Scegliere una persona che avesse conoscenza e contezza del territorio E il Presidente Gianni ha conoscenza del territorio Se noi avessimo avuto un fenomeno Il Cristiano Ronaldo di coloro che gestiscono le emergenze Ad Aosta tu dovevi farlo venire in Toscana E magari perdeva cinque giorni a capire come era conformato il territorio della Toscana Il Presidente Gianni lo conosce a mena dito Quindi in questa fase credo che la razio sia stata questa Poi nella fase successiva vedremo cosa deciderà il Governo Secondo noi ci sono tre impegni fondamentali Innanzitutto che si faccia velocemente In Emilia Romagna sono stati attesi tre mesi prima della nomina del commissario alla ricostruzione Sono stati persi settimane importanti Secondo sarebbe auspicabile che fosse una persona del territorio Comunque con una profonda conoscenza del territorio Mi viene in mente Anna Marson perché pensa alla sua legge Ma ci sono molte persone in grado, professori universitari e altri che potrebbero farlo Terza cosa, il centro, la struttura organizzativa Deve avere sede non a Roma ma qui in Toscana Vicino ai luoghi dell'epicentro di questo disastro Perché non ci deve essere lontananza Non ci deve essere nessuna discrepanza tra quello che è il vissuto Il vedere quotidianamente l'emergenza e la ricostruzione che va avanti E quelli che direttamente vi devono operare Questo è contenuto all'interno della nostra proposta di risoluzione Io non ho niente in contrario al fatto che sia il Presidente Gianni il commissario per la ricostruzione È lui che conosce bene il territorio Mi augurerei che fosse lui Però non credo che sia questo il vero punto della questione Il punto della questione è che dobbiamo prendere atto che molte criticità nella fase dei soccorsi e degli aiuti Non sono state affrontate nel modo adeguato E questo è una cosa che mi pone in grande preoccupazione anche per il futuro Anche per altre zone della Toscana Perché qui se c'è qualcosa che non funziona nella fase emergenziale Dobbiamo prenderne tutti atto Chiunque sia poi a governare la fase di emergenza e di ricostruzione Intanto io affermo che Gianni si sta muovendo bene Questo è il primo punto di vista mio come forza politica Per quanto riguarda la fase emergenziale Come bene si stanno muovendo i sindaci del nostro territorio Con una grande cultura di appartenenza Bene si sta muovendo l'assessore della protezione civile Monia Moni Quindi un ringraziamento alle istituzioni presenti nel territorio Ovviamente forze dell'ordine Ovviamente sistema diffuso di protezione civile Volontari, angeli del fango E non solo Credo che non esista persona migliore che Eugenio Gianni Che è il Presidente Che una volta in grado di intervenire sulla fase emergenziale Possa poi anche favorire la fase della ricostruzione Ma siamo ancora in una fase emergenziale Siamo ancora nel definire gli interventi urgenti da dover affrontare E credo che servano invece maggiori risorse Quindi quello che chiediamo al Governo Distanziare subito altre risorse E se possibile di impegnare maggiormente l'esercito Nei nostri territori E nel contempo ringraziamento Va a tutte le colonne mobili delle altre regioni italiane Che si stanno impegnando in Toscana Penso che come è stato fatto in Emilia Romagna Se il Presidente Gianni non fosse anche il commissario per la ricostruzione Sarebbe un errore Perché chi conosce bene il territorio Chi dispone comunque di una macchina Della protezione civile regionale Che si ovviamente avvale anche di quella nazionale Dovrebbe essere quello investito per portare avanti Non solo l'emergenza ma anche la ricostruzione Se la scelta sarà un'altra Vuol dire che prevalgono logiche di carattere politico E non quelle per quanto riguarda invece la migliore efficacia Almeno dal mio punto di vista Per la ricostruzione di questi territori Ă Halle Per la ricostruzione di questi territori It's Grazie a tutti.